Un incidente stradale in Afghanistan ha provocato la morte di almeno 50 persone e il ferimento di una sessantina. Due autobus e un camion cisterna per il trasporto di carburante si sono scontrati sull'autostrada Kabul-Kandar nella provincia meridionale di Ghazni alle 6 del mattino ora locale. A causare la maggior parte delle morti, l'incendio scoppiato in seguito allo scontro.